Siamo con Olga Zambaiti, Presidente dello Scalabra DC Group, il padrone di casa di questa bellissima manifestazione. Olga, un'altra volta il Monte Porra si dimostra amico dello sci bergamasco. Eh sì, diciamo che lo Scalabra DC è potuto allenarsi qui al Monte Porra, grazie al Monte Porra che è sempre dato un servizio, non solo poi allo Scalabra DC ma anche a tutti gli altri Scalabra per tutto l'inverno, visto che gli agonisti hanno potuto allenarsi qui su queste piste e quindi anzi li ringrazio moltissimo per aver dato continuità a tutti i nostri atleti bergamaschi. Insomma è vero, sono amici dello sci qui al Monte Porra. Ecco amici dello sci al Monte Porra, amico dello sci anche lo Scalabra DC che organizza questa tre giorni impegnativa, io l'ho definita un po' la festa dello sci bergamasco. Gli altri anni erano tutti insieme Children e Pulcini, quest'anno per le esigenze legate al Covid spalmata su tre giorni, ma tre giorni belli, importanti. Allora sì, noi abbiamo organizzato questa tre giorni di sci dedicati ai miei suoceri Gianni e Luciana Radici. E noi ci teniamo a fare delle belle gare in memoria loro, ma diciamo che sono tre giorni di festa per tutti gli Scalabra e per i bambini. Io ci ho sempre tenuto a fare le gare assieme sia per i Children che per i Pulcini di modo che le famiglie stanno assieme e non si dividono la domenica uno con una categoria o con l'altra perché l'ho provato sulla mia pelle cosa vuol dire. Ed è bello stare tutti assieme, ma purtroppo quest'anno per esigenze Covid abbiamo dovuto dividerli perché non si può fare sembramento giustamente. E quindi niente, oggi siamo alla prima giornata dove corrono i Pulcini, cioè cuccioli e bebi. Siamo contenti perché comunque vediamo che la manifestazione sta continuando nel modo migliore, il tempo diciamo ci assiste. Punto di domanda domani e dopo domani a causa delle cattive condizioni. Sì, diciamo che comunque il programma prevede per domani un gigante Children e dopo domani la prova veloce. No, domani è uno speciale. Ho sbagliato. Sì, diciamo che comunque la cosa importante domani c'è lo slano speciale, peraltro se anche il tempo non è bellissimo lo speciale magari si riesce a portare a casa, speriamo e non crociamo le dita. Lunedì il Super G prova veloce, il Monte Porra mette di posizione le piste, non ci sono i turisti quindi si riesce a fare comunque anche una prova veloce in Bergamasca, cosa molto importante. Ma sì, noi cercheremo di fare il possibile però contro il tempo non si può andare. Vediamo, decideremo anche con i giudici di gara, con gli allenatori, soprattutto con Henry che è lui ormai che decide tutte queste cose. Però è chiaro che noi cerchiamo di fare il possibile per portarle a casa queste gare, anche perché l'organizzazione è già qui, è già tutto in piedi, per cui meglio che portarle a casa non ce n'è, vediamo. Henry Borsatti ricordiamo, è il vicepresidente dello Sciclub Radici ed è proprio il motore dello Sciclub, purtroppo infortunato, l'abbiamo visto comunque attivo a lavorare sempre, è una grandissima passione. Eh sì, l'aereo non lo ferma nessuno, purtroppo ha avuto questo brutto infortunio, però sta già recuperando e diciamo che è qui anche oggi, anche se non può essere presente sulle piste, ma in biglietterie, dirige tutto da lì, pur essendo infortunato, ma sì, grazie a Henry, è un leone. Ecco, diciamo anche grande attenzione alle misure di sicurezza per il Covid, avete provato la temperatura tutti, tutti sono stati braccialettati, può entrare in campo gara soltanto chi ha braccialetto, i genitori non sono presenti, qualcuno magari a piedi è riuscito ad arrivare in lontananza, grande attenzione e un grande impegno anche da quel punto di vista. Beh, per forza, diciamo che è vero, le regole danno un po' fastidio perché costringono un po', danno dei limiti, però se si vuole continuare bisogna assolutamente rispettare i protocolli di sicurezza e noi ci teniamo moltissimo e facciamo tutto quello che dobbiamo fare, anzi spero che lo facciano anche per quando apriranno qui al Montepora il 15, che ci siano tutti i protocolli e che la gente soprattutto rispetti, perché anche noi diciamo di portare la mascherina, tenere la distanza, però si sa che ogni tanto può succedere di vedere qualcuno invece che non le rispetta. Io chiedo invece che veramente il pubblico e le persone, gli appassionati rispettino tutte le regole perché possono dare un danno incredibile anche alla stazione. Sì, stazione che ricordiamo che è innevata perfettamente, ma è come quest'anno, quindi dal 15 si può tornare a sciare, veramente ci aspettano piste fantastiche. Ah sì, tanta neve, piste fantastiche ed è probabile anche che ci sia un numero chiuso per cui non ci sarà una massa incredibile di persone qui perché apriremo, sarà tutto regolamentato, con fiste bellissime per cui si può sciare anche senza troppa gente vicino. Grazie a tutti! Grazie a tutti!